Amici di Marionino Superstar, ebbene sì, questa volta si parte per le vacanze. Dove andrò? Dunque, essendo che io ho un grado di terronaggine, ovvero un grado di terronaggine che va oltre il mille, mille, mille per cento, andrò in Calabria, ebbene sì. Andrò in Calabria con destinazione Guarda Valle, in provincia di Catanzaro, e andrò lì perché praticamente c'è un bellissimo mare, cristallino, e mi viene in mente una battuta di un bellissimo film di Tom Cruise, Codice d'onore. È tutto chiaro? È tutto chiaro? Cristallino? Questa è la scena più bella in assoluto del Codice d'onore, ovvero A Few Good Men, del 1992, diretto da uno straordinario Rob Langer. Ovviamente non può uno sfegatato foso del Napoli come me, non fare tappa in questa bellissima città. Sei parole, mille emozioni, e aggerito tempo. Allora, in Calabria farò strage di soppressate da fare schifo, pesce a volontà. Napoli, papà, sfugliatele, fiocchinev, aspettatemi, arrivi lì. Bene, noi ci vediamo prossimamente dopo le vacanze. Ebbene, passatevi delle buonissime vacanze, amici di Marolino Superstaffo. Intanto continuate a iscrivermi al mio canale e vi divertirete un casino perché vedrete delle novità che, ragazzi, ragazze, signori di ogni età, vedrete. Bene, a presto. Alla prossima. Alla prossima.